Settant'anni insieme. L'Avis comunale di Lugo festeggia settant'anni di impegno sul territorio con una celebrazione ufficiale scandita da alcuni momenti importanti. L'inaugurazione di un monumento nel cuore della città, l'esibizione della banda e relativo corteo con deposizione di una corona sul monumento di baracca, la Santa Messa presso la chiesa parrucchiale della collegiata. Settant'anni di braccia attese in modo gratuito, anonimo, volontario, responsabile. Settant'anni di contributo alla costruzione di quella generosità organizzata, di quel capitale sociale che produce aggregazione, coesione sociale e sicurezza. Adolfo Zacchari, presidente Avis comunale di Lugo. Una celebrazione densa di momenti importanti per questo settantesimo. Sì, in particolare perché volevamo dare risposta alla cittadinanza e far vedere che eravamo vivi sul territorio e in particolare con un monumento per evidenziare appunto quanto siamo inseriti eredicati nel nostro territorio, con settant'anni di attività di volontariato rivolto in particolare nel nostro caso alla donazione del sangue e alla ricerca costante della solidarietà e del dono. Il territorio è particolarmente generoso. Quanti sono i donatori effettivi? Nel nostro territorio, come donatore di sangue dell'Avis comunale di Lugo, conta 1121 donatori di sangue, dei quali, ci tengo a sottolinearne, 62 sono nuovi cittadini, cioè stranieri che donano sangue. E questo è molto importante perché troppo spesso si dice che hanno solo dei diritti, ma in questo caso hanno anche assolto dei doveri che sono sicuramente indispensabili per integrare nella nostra comunità anche eventualmente i più deboli, i più bisognosi, nel caso nostro generale, ma in particolare rivolto ai cittadini non italiani di nazionalità, la loro integrazione è indispensabile per poterli accoglierli nel modo migliore. Quali iniziative per la celebrazione del settantesimo? L'iniziativa maggiore ovviamente è quella, come abbiamo avuto la possibilità di vedere, della realizzazione di un monumento che consiste in un cuore formato da due gocce, che simbolicamente capovolte formano un cuore, ma l'importante di questo monumento è la composizione stessa della decorazione, vale a dire delle tessere di cuoricino che rappresentano una donazione ciascuna. Pensate che nel monumento ne abbiamo messi circa 9.700 che sono in ogni caso simbolicamente come significato dalla loro forma una donazione di sangue che rappresenta una grande goccia che rappresenta il cuore, che è la vita di tutto quanto nel nostro corpo umano ovviamente per farci e mantenerci in buona salute è indispensabile, ma per fare anche degli atti di generosità e di cuore, come mi ripeto, come è indispensabile che sia, cioè rivolti agli altri nella piena consapevolezza che con i nostri gesti riusciamo ad aiutare i più deboli e i più bisognosi. Davide Ranalli, sindaco del Comune di Lugo, 70 anni di Avis sul territorio, l'importanza dell'Avis per la comunità lughese. Ma intanto questo è un anniversario molto molto importante perché quando un'associazione riesce a raggiungere un traguardo così importante significa che l'associazione è riuscita non solo a radicarsi nel territorio ma sempre a svilupparsi e a crescere nel territorio nella quale è nata. Per noi l'importanza di Avis è un'importanza oltre che per tutto quello che realizzano, in particolare sul tema delle donazioni, anche perché Avis sta da molto tempo portando avanti un concetto che è un concetto culturale molto importante che è quello relativo al tema del dono. In questi anni sono stati fatti importanti passi in avanti, penso soprattutto alla inaugurazione e alla realizzazione del nuovo punto prelievi proprio all'interno dell'ospedale di Lugo che è diventato forse uno degli elementi più distintivi e più rilevanti per Avis ma anche per la nostra comunità e per il nostro ospedale. La generosità è scritta nel DNA, fa parte del patrimonio genetico della comunità lughese? Beh, senza dubbio la comunità lughese ha come tratto identitario il fatto di essere una comunità molto coesa e molto generosa. Io credo che questo concetto sia un concetto che valga sempre ma forse ancora di più in questo momento della storia, di una storia che vede un mondo attraversato da conflitti, da tensioni, un mondo che avrebbe proprio bisogno che nell'animo umano delle persone il concetto di generosità, di dono e di lavorare appunto per gli altri divenissi uno degli aspetti fondamentali delle persone. Enrico Flisi, presidente dal 1976 al 1982 e dal 2005 al 2010. Come è nata l'Avis a Lugo? La storia dell'Avis è davvero bella e si sviluppa parallelamente alla storia della nostra comunità e della sanità in modo particolare. Nel 1948 il paese stava risorgendo dalla guerra e c'erano però ancora dei residui. Per esempio a Lugo il primario della medicina era un medico specializzato in medicina collineale e malattie tropicali. Lui pensava che la donazione volontaria doveva essere solo in caso di guerra o di calamità naturali. A Lugo in quegli anni venne un assicuratore, Giuseppe Frabetti, che già a Bologna, dove all'interno del Sant'Orso la medicina trasfusionale aveva lavorato molto e aveva pienamente acquisito l'idea dei volontari del sangue. Incontra a Lugo Enrico Marlat e Aurelio Valli e cominciano a ragionare su costruire anche a Lugo l'associazione dei donatori l'Avis. Incontrano però difficoltà perché l'allora primario di medicina era diciamo anteguerra. Comincia quindi un lavoro di collegamento sempre con Bologna. Contemporaneamente viene fondata la sezione nel novembre del 1948 ma non si riescono a fare le donazioni perché l'ospedale non era disponibile. Quindi la prima donazione viene fatto nel febbraio del 49 alle 5 del pomeriggio a Fusignano dove il dottor Babini invece era molto sensibile alla medicina trasfusionale e quindi ha ospitato volentieri questo gruppo di donatori e la prima donazione appunto non avviene a Lugo. Continuo però i collegamenti tra questi volontari e Sant'Orsola. Sant'Orsola rassicura sempre che si troverà un'evoluzione positiva a Lugo. Lugo si aspettava qualche fatto clamoroso. In realtà il professor Forni direttore della clinica chirurgica del Sant'Orsola e dell'università ha trovato una via più semplice e più profonda perché nell'estate del 49 nomina primario fa in modo che primario di Lugo diventi Enrico Iasonni. Il professor Enrico Iasonni sensibilissimo alla nuova medicina trasfusionale diventa presidente dei donatori di sangue. Qualche anno dopo viene raggiunto dal professor Pietro Marinelli e il professor Iasonni diventa presidente onorario e il professor Pietro Marinelli presidente. L'anima sono sempre in modo particolare Frabetti, Marlat, Valli e tanti altri. Cosa successe negli anni 70? Cosa portò al cambio di nome da Avis ad ADS comprensorio di Lugo? Sì, dicevo che c'è questo intreccio tra la vita dell'Avis e dei donatori e le trasformazioni della sanità. Succede che nel 68 c'è la riforma Mariotti che fondano gli enti ospedalieri ed è un primo fatto di programmazione sanitaria molto importante perché si supera il concetto di assistenza delle opere pie in enti ospedalieri e quindi la sanità come salute. Questa legge prevedeva che gli ospedali dovessero essere di zona a Valenza provinciale, regionale e nazionale. Lugo punta ad essere ospedale di Valenza provinciale. Per essere ospedale di Valenza provinciale deve avere anche un centro trasfusionale e lì nasce un conflitto con l'Avis provinciale che gestiva il centro trasfusionale perché l'Avis provinciale aveva piacere mantenere una propria attività forte. Allora di comune accordo, comune ospedale, dovendo raggiungere questo obiettivo, chiamano i donatori e propongono il cambiamento di nome in Avis DS comprensoriale. Il primo presidente è il dottor Giorgio Roncucci che allora era direttore sanitario dell'ospedale, vicepresidente il dottor Bencivelli che viene chiamato a dirigere il centro trasfusionale di Lugo. Fu un momento anche di conflitto, anche di sofferenze tra i donatori, ma fu anche un momento di grande sviluppo perché si privilegiò molto la tutela del donatore, un servizio molto efficace tutti i giorni nell'ospedale e il numero dei donatori crebbe sensibilmente, particolarmente Lugo, Cotignola e Sant'Agata. Pasquale Montalti, presidente dal 1982 al 1993. Completamento e realizzazione della parificazione Avis ADS e ritorno all'Avis. Beh, a inizi anni 80 comincio a ricoprire il ruolo di presidente all'interno dell'Avis. È un momento nel quale c'è un grande cambiamento anche a livello di tutta la struttura sanitaria del nostro comprensorio e in effetti anche noi valutiamo che tre momenti di raccolta del sangue Avis, Avis ADS e ADS fossero in effetti momenti anche molto problematici, cioè non c'era più un ragionamento di pensare insieme a come raccogliere il sangue. In quel periodo ci sono un serie di incontri importanti con l'Avis, allora il presidente Radino Guerra e si comincia a ragionare appunto sul ragionamento di una parificazione fra le due associazioni e nell'84, nel 1984 viene stipulato questo protocollo di intesa in cui vengono ribadite in effetti le finalità di quella che è la raccolta del sangue e di come le due associazioni Avis ADS hanno lo stesso ruolo, gli stessi privilegi, gli stessi diritti. Poi a fine anni 90 stipuliamo questo protocollo di intesa dove proprio vengono ribadite tutte le peculiarità appunto della donazione. A fine anni 80, inizio anni 90, io in quel momento lavoravo nel settore tossicodipendente, esplode l'AIDS. Quindi cosa succede? Succede che Avis ADS viene un attimo travisato con l'AIDS ADS e proprio in quel momento nel 94, quando il presidente diventa Piersante Guerrini, pensiamo sia necessario togliere quella sigla proprio per diventare solamente Avis, però per non dare adito proprio a interpretazioni abbastanza sbagliate. Gli anni che vanno dal 2000 al 2010 sono anni particolari per l'AIDS comunale di Lugo, ma per l'AIDS in generale, perché fin dai primi anni dopo il 2000 cominciò a registrarsi la conseguenza del calo delle nascite degli anni 80. In poche parole, entravano nell'età della possibilità del dono, cioè 18 anni, 20 anni, generazioni di ragazzi poco numerose, proprio perché c'era stato il calo delle nascite negli anni 80. Anzi, ad essere più precisi, uscivano dall'età del dono come oltre 65 anni il doppio di quelli che entravano come neodiciotenni. Questo naturalmente si ripercoteva nella percentuale dei donatori. Che cosa fare? Il Consiglio di Lugo cominciò a lavorare su una molteplicità di iniziative, soprattutto per allargare la platea dei donatori. Prima di tutto ci rivolgiamo al mondo della scuola. Il mondo della scuola si lavorava già, ma da quel momento, vista la situazione, cominciamo a farlo in maniera sistematica, regolare, in tutti gli ordini di scuola, dall'asilo, dalle materne fino alle scuole superiori. Concentrandoci naturalmente però molto di più sulle scuole superiori sugli anni quarta e quinta, in cui i ragazzi diventavano maggiorenni. Altra iniziativa che prendemmo sempre per raggiungere una platea vasta di donatori fu Salute ed Intorni. Si sviluppò dal 2005 al 2012 e raggiunse ben sei edizioni. Salute ed Intorni si proponeva di parlare di salute da un punto di vista fisico, ma soprattutto dello star bene anche con se stessi e con gli altri. Ecco perché, oltre a problemi di carattere sanitario, affrontò problemi riguardanti il mondo dei giovani, come il bullismo, come la noia. E le relazioni soprattutto col mondo dei nuovi cittadini italiani, cioè col mondo degli immigrati, che dovevano in qualche modo essere sensibilizzati al dono del sangue. Per quanto riguarda gli immigrati, mettemmo in atto le feste dei popoli, momenti di incontro conviviali, in cui le comunità che erano affluite a lugo nel corso degli anni si incontravano, si conoscevano e venivano a conoscenza del messaggio dell'Avis. Con tutta questa attività siamo riusciti a arginare la perdita di donatori o comunque ad arrivare a un buon equilibrio fra la raccolta e i consumi. Marco Bellenghi, presidente Avis provinciale di Ravenna. Quali sono gli eventi più significativi per l'Avis comunale di Lugo nel periodo 2011-2018? Allora, partiamo che dal 2010, come Avis comunale di Lugo, ma soprattutto come Avis provinciale, è iniziata una fase molto importante di riorganizzazione territoriale del sistema della raccolta. Ha visto nella prima fase del 2010 la chiusura di alcuni punti di prelievo, poi dal 2013 c'è stato l'automateca che utilizzavamo per fare la raccolta nei vari punti, nelle sezioni attorno al compressorio lughese, non è stata più creditata, non era più possibile fare questo. Siamo arrivati fino al 2015 con la chiusura dei punti di raccolta qui attorno a Begna Cavallo e Fusignano che si è completata quella fase di riorganizzazione che ci chiedeva l'azienda. In poche parole, noi oggi siamo strutturati, ci sono stati chiusi 8 punti di raccolta attorno al compressorio lughese. Ad oggi l'Avis provinciale è formato da 22 sezioni e 11 punti di raccolta e il punto di raccolta di Lugo è diventato strategico. Strategico perché confluiscono qui molti più donatori, confluiscono tutte le sezioni attorno. Secondo noi vediamo questo punto di raccolta che è gestito direttamente dall'Avis provinciale di Ravenna con la collaborazione dei volontari di Lugo, un punto su cui dobbiamo ancora migliorare le nostre aspettative, soprattutto le nostre ma anche i donatori che si recono qui. Per quali ragioni la nuova sede del centro di raccolta di Lugo, successivamente intitolata al dottor Piero Golfera, è stata realizzata in ospedale nonostante il fatto che al momento della sua predisposizione si stesse già operando per il passaggio di gestione del centro dell'Avis provinciale? Credo che Avis dovesse rimanere assolutamente all'interno dello strutturo dell'ospedale perché comunque stiamo oltre più, che è stato siglato pochi mesi fa, un accordo con l'area vasta proprio dove l'azienda deroga l'Avis a far la raccolta in tutta la nostra area vasta, nel senso che il sistema di raccolta è proprio stato delegato all'Avis nelle varie province. Perciò in questo momento, anche se quando abbiamo preso il punto di gestione di Lugo, era una fase diciamo ancora embrionale di questo progetto, comunque è stata la prima parte di questa che ci ha visto poi riorganizzare, che è passare a prendere in gestione anche il punto di faenza e questo è stata anche una volontà dei lughesi, soprattutto di Piero Golfera che poi è stato intornato in questa sala, di rimanere proprio la struttura, il punto di raccolta all'interno dell'ospedale. Uno perché crediamo che comunque non siamo due enti diversi ma noi stiamo raccogliendo per il sistema sanitario sotto diciamo la loro licenza perché comunque loro sono dei sorveglianti, sono coloro che settimanalmente ci chiedono quali sono i gruppi di sangue che hanno bisogno per tutto il loro sistema trasfusionale, degli interventi, delle trasfusioni, tutto il resto perciò abbiamo un ottimo interlocutore, noi ci fa molto piacere rimanere all'interno delle strutture perché siamo molto integrati e non siamo, siamo dei partner nel senso che oggi con loro lavoriamo, creiamo, progettiamo come fare un Avis migliore. Dottor Daniele Vincenzi, direttore del servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Ravenna, il futuro delle trasfusioni, quali prospettive? Buongiorno a tutti, io innanzitutto ringrazio i donatori di sangue per il loro impegno, per il loro senso di responsabilità perché è solo grazie a loro, al loro impegno, che noi riusciamo a garantire i livelli essenziali di assistenza nei nostri reparti ospedalieri. La medicina trasfusionale in questi anni ha avuto enormi sviluppi, soprattutto orientati nel senso dell'efficientamento per la sostenibilità del sistema ed anche nei riguardi della qualità e della sicurezza sia del paziente e sia anche del donatore. Il futuro sicuramente ci aspetta un futuro molto appassionante a mio avviso perché noi dovremmo cercare di assolutamente implementare sempre di più il concetto del patient blood management, vale a dire la gestione della risorsa sangue del paziente, non più supportato esclusivamente attraverso quando deve fare interventi chirurgici attraverso l'uso del sangue allogenico, ma il paziente deve essere portato nelle migliori condizioni ematologiche all'intervento chirurgico programmato in modo da ridurre anche la necessità di sangue e migliorare il suo outcome durante il ricovero ospedaliero. Stiamo lavorando in tal senso con tutti i clinici e anche nell'ambito della nostra AUS della Romagna. Altra novità futuro che ci vede particolarmente impegnati è anche quella della costituzione della rete tra pianti metropolitana della AUS della Romagna, in cui i servizi di medicina trasfusionale, le unità di raccolte cliniche della AUS della Romagna, di Ravenna, Rimini e l'IRST e anche l'unità di bancaggio, di criobiologia, di manipolazione cellulare, hanno creato una rete metropolitana di tra pianti in campo ematologico che sicuramente avrà un notevole impatto sulla medicina trasfusionale. Stiamo lavorando, abbiamo già ottenuto la certificazione dal Centro Nazionale Sangue e tra pianti e ci siamo impegnati a breve, avremo anche un accreditamento, un ulteriore accreditamento a livello di sistemi internazionali di accreditamento. Quindi è un impegno a 360 gradi, io non posso far altro che rinnovare a tutti i donatori di incoraggiarli a questo impegno, al loro senso di responsabilità, ad una donazione che dovrà essere sempre più adeguata al miglioramento dell'attività di medicina trasfusionale.